Cacca vaica Quareschelia, sta bene a Napoli. Non ha mai preso in considerazione altre ipotesi ed ha fretta di rinnovare. Dopo il comunicato stampa del De Laurentiis Club. Il padre è l'agente dell'attaccante. Avere una relazione fantastica e non c'è discussione sul rinnovamento perché siamo contenti del contratto che abbiamo. Cosa ha detto il procuratore di Quareschelia, non siamo mai stati scontati a Napoli le parole di Mamuka Iugelli e cogliendo l'occasione per ringraziare De Laurentiis che è una persona fantastica. Se considera appropriato rinnovare, siamo pronti per la negoziazione. Ma ora ne siamo soddisfatti tutto. Se un domani Quara sarà più vero o Barcellona. Sarà una domanda che verrà valutata in futuro. Quareschelia. Papà parla darà tutto per il Napoli oltre al procuratore di Quareschelia. Che parlato in Calcapoli 24. Anche parlato il padre del georgiano. Badri. Che in diverse parole ribadito lo stesso concetto la mia famiglia non problemi con lo stipendio di. Quara. Voglio che i fan non lo sappiano vuoi cambiare i club e darà tutto per il Napoli.